Mister, un inizio veramente eccellente con questo Cassino, secondo in classifica, una squadra veramente in salute. Sì, un inizio campionato al di là di ogni più rosa previsione, questo è merito sicuramente dei ragazzi che hanno approcciato molto bene a questo tipo di campionato. Siamo stati avvantaggiati secondo me dal fatto di aver mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno, i vari carcioni, prisco, ricamato, della pietra, tribelli, a cui abbiamo affiancato dei ragazzi molto giovani ma molto bravi. Secondo te questo di quest'anno è un campionato più equilibrato? Ma dovrebbe essere più equilibrato, anche se nella griglia di partenza sicuramente la Turris, insieme all'Aprilia, insieme a Latina, al Trastevere, Latte Dolce, Torres, sono le squadre che sicuramente sono le più accreditate alla vigilia. La Turris è partita bene perché mi sembra quattro partite e dodici punti, quindi a punteggio pieno, però lo stesso Aprilia, lo stesso Latte Dolce, sono lì a ridosso. Io credo che sarà un campionato dove si giocherà fino all'ultima giornata, anche se onestamente a livello di organico, leggendo un po' le rose delle squadre, credo che la Turris abbia in ogni ruolo un doppione e alla lunga questo paga. Ministro, questo secondo posto in classifica avvicina ancora di più i tifosi alla squadra? Ce l'auguriamo, noi siamo partiti un po' circondati da scetticismo da parte di tutto l'ambiente, reduci dal campionato scorso che avevamo fatto bene, avevamo disputato i play-off. E quindi forse l'ambiente si aspettava una conferma di giocatori importanti, che purtroppo così non è stata per vari motivi, senza che siamo qui a ripeterli. Però essere ripartiti con questo entusiasmo, con questa determinazione, soprattutto con questa continuità di risultati, perché noi lo scorso anno abbiamo finito le ultime dieci partite, abbiamo fatto nove vittorie e una sconfitta. Abbiamo riniziato con tre vittorie e un pareggio, significa anche se sono cambiati gli interpreti, è chiaro che ci manca più la qualità che ci potevano dare alcuni giocatori dello scorso anno. Però sicuramente, ribadisco quello che ho detto prima, si è sottovalutato secondo me a livello ambientale il fatto che noi abbiamo confermato lo zoccolo duro.